muo ti ho morto il cavallo, vieni qua fermi, mamma mia ma perchè non si prende nessuno da sopra? mio dio, sporgiti di più l'ho preso vagamente bro basta, ah, mi hanno sfasciato il cavallo di nuovo basta mo, aia mamma mia, aiuto, amico oddio ti ho fatto spawnare una brutta situazione amico mamma, basta ai cazzo, ok ora avete notato che a volte giro l'ascia praticamente può usare sia la punta dell'ascia sia la lama, ed è una figata perchè la lama è più utile contro le armature leggere, mentre la punta è utile contro le armature pesanti, tipo questo stronzo qua davanti, che adesso gli insegniamo una sonora lezione, muori e, e, dove stai azzo, questo è un alleato che mi sta travolgendo, eh ragazzi muori, 30 di danni, fermo intanto ora ah, mi ha ferito mi ha ferito, no mi ha ferito, bastardo mi ha ferito devo curare, devo curare ah, no mi ammazza, mi ammazza vaffanculo muori tegame ecco, però sei morto anche tu ti sta bene tegame ah, lui pensava di essere prepotente no, e invece ha perso però stiamo pareggiando di brutto e sta partita finirà al tempo perchè nessuno delle due squadre sta controllando e mantenendo i punti più dell'altra dai e salta mamma mia un tegame proprio, eh si bugga quando fai saltare si bugga vieni qua tu con l'altro cavallo ti infilo adesso vieni qui mamma mia gli ha rotto la lancia oh no ci siamo mancati torna qui vieni ti fermo questo qua, eh a questo qua lo infilziamo vabbè l'abbiamo preso quasi non bene però non bene ehi tu amico dei fiori ti fermo mamma mia che fastidio che mi danno questi qua con la loro balestrina di merda è difficile da beccare poi porca putt mamma mia oh ti sto per guarda l'ho travolto però non l'ho fatto a pezzi vieni qua è preso però mi ha sfasciato il cavallo lui vieni qua ah ma chi cazzo mi ha ferito adesso vaffanculo bendare 4 3 vaffanculo chi mi ha preso un altro ce n'era qua da qualche pa tegame questo era un arciere perché aveva eh mi volevi finire tu invece niente pusha via torna alla battaglia tegame tatameo torniamo però anche noi eh vai eh guarda di là guarda di là ci sono dei bersagli dei bersagli sono morti ce n'è uno qua vivo però mu 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 non ho preso nessuno c'è qua il tizio di prima eh aspe tu sei ugualmente una merda oh mio dio è troppo difficile ragazzi non è bisogna allineare la lancia con lo stronzo ma a volte si missa lo stesso è un casino non è così facile come potrebbe sembrare di là c'è gente e l'ho beccato eh insta killed quando li prendi bene non c'è storia gli fa malissimo la lancia vieni anche tu tu sei un tega brutto eh no ti ho mancao ma l'ho preso questa era la lag secondo me perché mi sembrava di prenderlo quello lì col cavallo fuck eh di là aiutiamo questo buon amico muori eh vabbè eh aiutiamo qualcuno chi cazzo dove va vado di là adesso aiuto questo buon amico qua oh no ma chi mi sta toccando che mi interrompe tu sei sta oh no mia bastardo vieni qua amazzo vieni qui ti ti pesto il cavallo eh eh cazzo muori ehi tu con la tua spada di merda mamma mia fermo ti prendi i danni adesso sai muo eh eh muori ah ce n'è un altro oh no sono di nuovo due smettetela azz aiuto 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 sono troppi due eh però sto sto pestando questo qua eh ah basta non è giusto due contro uno vai via tu pure azz aiuto allea eh che cazzo ho capito che mi trovo nella squadra più scarsa però stiamo recuperando eh stiamo prendendo vantaggio dai ragazzi bisogna farcela bisogna farcela eh prendo di nuovo il cavallo adesso dai dai sempre con il cavallo adesso carichiamo gli facciamo le chiappette dorate se si perde non è importante però questo qua lo prendiamo oh no ho mancato anche lui prendiamo l'arciere di merda l'arciere di merda è preso è preso eh ragazzi e l'abbiamo preso a questo qua sei ancora vivo muori sei morto ora sei morto sei ancora smettila di bendarti su di ciò l'abbiamo proprio eh questa era un'azione da manuale andiamo ancora adesso eh prendiamo questo qua che si chiama alucard l'abbiamo preso eh ho preso l'alleato ho preso l'alleato scusa scusa e ho preso tizio eh questo benissimo eh questo era era nemico si può vedere perché compangono i punti compaiono i punti ok devo scendere da cavallo perché oh no più tizi troppi tizi pestiamo qua questo qua muori cosa stai cercando di fare ti vuoi curare eh non puoi vieni qui vieni muori fermo oh mamma mia vuoi fermare oh no mi ha ferito fuga oh no non posso fuggire oh no mazzo quando ti fanno sanguinare sei spacciato eh perché un altro colpo muori però stiamo ancora vincendo quindi presto presto bisogna rispaunare e continuare a confermare la vittoria senza perdersi danno dai 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 vado di nuovo di cavallo che mi sto divertendo un casino adesso ti carico a te che sei un tegan ho mancato credo però voglio ehi ehi non mi ammazzare il cavallo eh bastardo ho capito io che intenzioni avevi qua qua bisogna proteggere oh no c'erano i rami oh mazzo mettetela a questi a questi a questi a questi a questi a questi preso eh preso aspetta tutti attenzione eh c'è uno là si voleva bendare interrompetelo inter ah oddio è difficile non è facile eh è piuttosto complicato oddio c'è troppi rami troppi rami mi ha parato la lancia come ha fatto come ha potuto eh preso uno eh insta killed che figata che no mi ha rotto di nuovo la lancia io smonto adesso smonto da cavallo ti faccio le chiappette a pua ti faccio te gammie vieni qua oh la lancia muori mamma mia qua è complicato complicato eh ragazzi è molto oddio sono in due aiuto va via oddio sono troppi aiuto un alleato grazie un alleato alleato basta vai via ah ah mazzo mi hanno ferito lo sapevo ferito 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 curare 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 non mi stanno venendo a prendere sono stupidi ok adesso ti faccio le chiappe a colori ti fa vieni qua tu sei un muori vieni qui oh no il mio alleato ah ah stavo cercando oh no ah acchio oddio battaglia troppa gente in battaglia ah aiuto sto resistendo alleato alleato ah 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 mi hanno picchiato di nuovo devo andare via e curarmi io presto sono stupidi però perché non mi vengono a prendere quando io vado via a curarmi oddio è venuto però hai fatto tardi muori adesso fermo per te c'è una una oddio cazzo questo qua è forte ragazzi mettila minchia questo qua ti mette proprio la pressione ti mette fermati mamma mia che porca fermo ai mamma mia mi stai facendo incazzare amico bisogna bisogna insegnarti la lezione ok ok eh ti ho preso cazzo guardate come si muove cazzo guardate come l'ho becca l'ho pre eh uno della squadra ha spawnato da me dai aiutami amico pestiamo a sangue eh c'è gente ah tanta gente della nostra squadra beh allora non è il caso che anche noi pestiamo questo stupido io me ne andrei adesso muori ammazzatelo vai io vado a prendere a assicurare il punto stiamo vincendo ehi tu vai via non sto cavallo sai vai via ti prendo ad accettate nel culo vai via ah sei sceso cattiva cattiva azione eh quello è morto perfetto e adesso anche questo qua gli diamo le accettate proprio eh chi è quello là è nemico nemico a cavallo attenzione ehi ehi oddio situazione muori tu col tuo muori anche tu con la tua schifosa calzamaglia sembri il robin hood dei poveri ok eh tre a uno siamo tre a uno lancaster sta vincendo si siamo noi siamo noi lancaster vieni qua con le tue scarpettine di merda ok bisogna proteggere qua il punto di controllo anzi questo bisogna conquistarlo perchè ce l'ha tolto il tizio cavallo ok conquistiamo eh hai rotto le balle muori oddio ho caricato un cavallo da piedi mi hanno ucciso grazie grazie sei gentilissimo amico me ne ricorda ehi muori tu mamma mia il cavaliere nero cazzo il cavaliere nero il cavaliere nero tanto sei morto sudicio e qua ce n'è anche un altro di cavaliere questo non è nero però questo è grigio è il cavaliere è il fratello piccolo del cavaliere nero muori eh sta sanguinando sta sanguinando quindi sta per morire muori muori l'abbiamo l'abbiamo preso no abbiamo preso un alleato ok stiamo vincendo si stiamo vincendo stiamo proprio per vincere la vittoria ehi bastardo quello lì ha traffitto un nostro amico ha traffitto muori fermo eh no scusa amico non volevo stavo per picchiare a te mamma mia ok giriamo l'ascia adesso andiamo di punzone andiamo oh scusa oddio ho preso un alleato devo 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 fuggire e bendarmi mi bendo qua mi bendo adesso mi tirano una freccia lo so io ah no invece no perfetto perfetto torniamo nella battaglia eh ti proteggo io amico vieni qua tu eh fermo mamma mia con questo cappellino che hai in testa fermati dove cazzo è andato c'è la lag eh ehi ehi dove volete andare bisogna resist muori 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 ecco solo tre danno tre di danno ma che merda bisogna essere più 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 sagato oddio devo resistere resistere ah no mi hanno ferito oh adesso voi volete la guerra eh tanto state perdendo eh finiscimi tu e abbiamo vinto te te game te ti è andata male oh mio dio ragazzi è stato veramente emozionante fatemi sapere nei commenti se volete vedere altri video intanto vediamo dove siamo piazzati non tanto in alto purtroppo mi pare siamo qua insomma direi che siamo più o meno a metà classifica sì forse anche un po' prima di metà comunque sia abbiamo fatto sei uccisioni uh siamo morti nove volte eh vabbè vi ringrazio io per aver visto questo video fatemi sapere nei commenti se ne volete vedere altri su war of the roses e vi auguro una buona giornata se la giornata di oggi dovesse essere finita mentre guardavate questo video riguardatelo domani così potrò augurarvi di nuovo una buona giornata lion out l'iscrizione Grazie a tutti.